Buongiorno, buon inizio di giornata, cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio ai Giornali, la prima segna stampa della giornata, poi ne seguiranno in replica altre e naturalmente un saluto va anche a coloro che ci vedono non in diretta come siamo in questo momento ma durante le repliche della mattinata ed ora però prima di sfogliare i giornali in edizione locale come sempre guardiamo in ordine il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è martedì 1 marzo, la chiesa osserva la beata Giovanna Maria Bonomo, religiosa, il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 17.57, vediamo le previsioni del tempo, affrontiamo le 48 ore, oggi cielo prevalentemente nuvoloso con schiarite in serata per iniziare da nord e poi precipitazioni possibili ma sparse, più probabili però nel settore interno della regione, vedete la simbologia compare solo sui rilievi, le temperature in diminuzione, vediamo per domani come si presenta la situazione meteo, cielo poco nuvoloso a parte il transito di velature in mattinata però possibile aumento della copertura in tarda serata, quindi avremo una prima parte migliore e poi un peggioramento nella parte seguente della giornata, precipitazioni assenti, le temperature ancora in diminuzione nei valori minimi e guardiamo appunto l'ultima giornata che prende in considerazione la protezione civile che si prospetta come vedete un po' impegnativa, cielo molto nuvoloso, nuvoloso nelle ore centrali e graduale attenuazione però della copertura nella seconda parte della giornata, ci saranno precipitazioni diffuse e insomma una nota degna dimensione è il limite delle nevicate che scende fino a 500-600 metri quindi a livello collinare, temperatura insensibile diminuzione e questa è anche una segnalazione che ci arriverà, dopo ve la faccio vedere dal meteorologo del messaggero che dice insomma primavera con le temperature basse ma del resto il generale inverno non è mai arrivato quindi insomma ci può stare che ci sia una primavera un po' più rigida due le notizie centrali nei quotidiani, gli incidenti paurosi nella mattinata di ieri in 14 e l'ordinanza poi di Ricci sul cattonaggio allora partiamo proprio da qui, andiamo nel resto del Carlino vi porto nella pagina dove parla dei due incidenti paurosi che hanno visto l'eliambulanza fare una spola quasi continua per due ore tra il torretto di Ancona e il tratto dell'A14 tra Fano e Marotta incidenti a catena in A14, raffica di tamponamenti, quattro feriti, traffico in tilt per ore disagi anche sul tratto di strada nazionale che naturalmente essendo stato chiuso il pezzo di autostrada ha assorbito tutto il traffico pesante e non che arrivava in quel momento sul tratto di autostrada il primo incidente alle 7.45, una spazzolatrice carambola sul New Jersey e poi una Focus la centra questo tamponamento crea un altro tamponamento, due chilometri più a nord un tir greco tampona un altro tir che praticamente schiaccia un cubo contro il camion davanti veramente la sua occupante è in gravissime condizioni quindi una giornata veramente infernale per tutti gli operatori, i vigili del fuoco squadre da Pesaro anche per dar manforte ai vigili del fuoco di Fano veramente due ore, tre ore dalle 7.45 alle 10.30 in cui è stato riaperto il traffico in autostrada veramente intensissime. Continuiamo nelle pagine del resto del carino, c'è cronaca si parla di una notte tra sabato e domenica intensa dal punto di vista dei furti sono andati a far visita al Bon Bon, alla taverna del pescatore e in altri tre appartamenti nella zona appunto del porto e del Lido. Poi Blitz è stata arrestata, intercettata domenica sera dalla polizia alla stazione di Ancona, un campionario di droga vero e proprio vedete quante dosi e anche tipologie negli slip, è stata arrestata una pusher 25enne continuiamo nelle pagine del resto del carino, terminiamo quelle dedicate a Fano si parla di welfare e si parla di calo demografico e quindi una società un po' in crisi come cambiano i servizi in conseguenza, iscrizioni, si parla di materne tengono quelle delle materne ma c'è l'incognita dei nidi un mezzo flop per le scuole di raccordo che sono ridotte a 4 numeri stabili e naturalmente ci sono anche motivazioni sociologiche insomma gli anni del boom economico hanno creato anche un incremento demografico e poi insomma si è plafonata invece il numero delle nascite nell'ultimo decennio una foto di questo momento della società la fa il sociologo Tommasini che dice occorre ripensare a tutto il welfare e sarà anche meglio una volta che verrà rimesso sul nuovo corso insomma nell'articolo, nella sua intervista troverete la sua opinione a riguardo andiamo nelle altre pagine del resto del carino vi dicevo l'altra notizia è quella dell'ordinanza del sindaco Matteo Ricci contro l'accattonaggio c'è stato un consiglio comunale molto vivace e il sindaco addirittura scavalcato a sinistra la sua ordinanza è disumana lo dice Giacchi di Forza Italia un consigliere che va contro ogni forma di solidarietà queste le sue parole e Remo Giacchi appunto dice è un brutto gesto strumentale pieno di propaganda che stride in una città come Pesaro la replica di Matteo Ricci dice le nostre parole d'ordine sono naturalmente essere pragmatici e responsabili e non inseguo gli estremismi e non faccio tantomeno lo sceriffo per i furti nelle case Ricci dice abbiamo risolto il problema investendo nelle telecamere che leggono le targhe delle automobili è anche ripresa questa, sono due pagine del resto del carino la 4 e la 5 che parlano di questo tema lo affrontano appunto dal punto di vista politico e anche dal punto di vista sociale e religioso il parere dei preti e le mosine appunto sull'accattonaggio e questo sono schierati naturalmente con l'ordine e dicono spesso i vagabondi sono molesti anche Don Giorgetti stupisce per la sua affermazione chiedere gli spiccioli non è utile Don Cernuschi dice se vado in centro scopo che danni ci sono sempre le stesse persone che fanno accattonaggio vedete nelle foto alcune immagini, alcuni momenti di questa pratica voce assente anche se stimolata dall'arresto del carino in un'intervista che dice appunto l'abbiamo cercato per commentare ordinanza ma l'alto prelato non si è pronunciato sulla questione quindi voce assente dei vertici della chiesa pesarese questa ordinanza di Ricci sta facendo molto discutere e in tanti appunto vorrebbero sapere che cosa ne pensa Monsignor Coccia cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico si parla in apertura nella pagina di Pesaro di un altro argomento le celebrazioni rossiniane fino al 2019 chi lo chiede le istituzioni musicali pesaresi inaugurato appunto ieri l'anno accademico del Conservatorio e poi vi dicevo il Consiglio Comunale sulla Sicurezza movimentato perché rompe nel Consiglio una persona che è stata poi allontanata che grida vivo in povertà e nessuno di voi mi aiuta è appunto contestato questo documento da Forza Italia la pagina di Fano del Corriere Adriatico in testa un articolo che riguarda appunto questa vicenda della sicurezza degli accattoni che Pollegioni di Fratelli d'Italia dice sollecita serie ad adottare lo stesso provvedimento di Ricci contro le false povertà perché il rischio è questo adesso tutti gli accattoni di Pesaro vengono a Fano ci sarà una sorta secondo Pollegioni di transumanza sulla mendicanza in strada con le fiaccole contro i malviventi ci si è tenuto un sit-in della Lega Nord vicino al bar Polvere di Caffè è svaliggiato ben cinque volte occorrono pene detentive certe questo è il parere della Lega Nord chiesti il ripristino della carcerazione preventiva e il potenziamento degli istituti di reclusione poi in fondo alla pagina si è tenuto un convegno dove si parlava di cure palliative nella foto Elmo Santini dell'associazione Maruzza che chiede al sindaco di spingere la regione a non vendere l'ex ospedaletto con questa vocazione da sempre sanitaria sui piccoli, sui bambini di Fano Santini spinge e invita la giunta a vincolare urbanisticamente alla sanità la struttura che appunto ospitava l'ospedaletto dei bambini nelle pagine del Corriere Adriatico di Fano c'è anche politica posizione centrale nella pagina si parla appunto di seri da parte del Movimento 5 Stelle Omiccioli i pentastellati non mollano la presa sul sindaco, sul primo cittadino e dicono seri a fortuna ma nessun merito censura la strategia sulla sanità che appunto taccia come perdente e succube del PD il sindaco questo è il parere di Omiccioli che dice le opere si realizzano ora frutto dello sblocco del patto di stabilità le altre minoranze scendono a patti e poi in testa di pagina al Battisti un bel progetto che mette insieme valorizzando lo studio e lavoro appunto come alternanza e l'informatica è l'avanguardia al Battisti c'è il progetto FAD Lab e corso naturalmente serale annesso e rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico vi faccio vedere quella che riguarda Senigallia si avvicina la Pasqua e la città della spiaggia dorata mette appunto gli suoi strumenti dal 17 marzo al 3 aprile tante iniziative ma naturalmente anche i posti auto per favorire l'arrivo dei turisti e delle persone che vogliono vivere questo momento posti auto nei giardini vicini alla stazione essendo venuto meno appunto il polmone centrale della piazza summit in comune con i commercianti parcheggi prioritari definito il pacchetto per la Pasqua e poi non smonta il gazebo in spiaggia un bagnino viene multato anticipando un po' un po' troppo presto le feste in arrivo naturalmente voleva un po' anticipare i tempi ultima testata che vi faccio vedere è quella del messaggero vi mostro la pagina che parte da Pesaro anche qui come dicevo l'altro argomento oltre quello degli incidenti in autostrada e la sicurezza e le mosse di Ricci acceso dibattito in consiglio sull'ordinanza contro l'accattonaggio che appunto Forza Italia definisce brutta e inutile oggi ci sarà un incontro con il questore per i nomadi in ospedale che bivaccano in ospedale e poi una insomma una ardita signora che si sveglia scopre il ladro in casa che scopre il ladro che tenta di entrare in casa siamo a Urbino la donna chiama la polizia e lo fa arrestare appunto vi dicevo il meteo del messaggero una fredda primavera non tanto maledetta come diceva Loretta Goggi ma fredda e poi la vocazione sportiva dell'Adriatica Arena viene confermata perché a Pesaro ci saranno i campionati mondiali di ginnastica ritmica l'ultima pagina che vi propongo è quella del messaggero di Fano incentrata principalmente sulla manifestazione della Lega Nord ristoranti locali e case i ladri non danno tregua preso nel minino appunto anche la zona del Lido anche qui nell'articolo del messaggero la cronistoria tra sabato e domenica vedete nella foto indicata dalla freccia Paolini che megafono alla mano arringa le persone intervenute appunto ieri pomeriggio a Sant'Orso durante la fiaccolata della solidarietà organizzata da loro si parla appunto anche qui di spalla del convegno sulla cure palliative quindi ex ospedaletto va vincolato in funzione della sua vocazione sanitaria e poi in fondo pagina lo IAT presto nell'ex casotto delle opere marittime vicino al Caffè del Porto di fronte vicino al faro di Fano quel casottino che per tanto tempo è stato chiuso lì verrà fatto come punto di interesse turistico per tutti coloro che verranno a Fano e l'annuncio è stato dato dal vice sindaco Marchegiani bene questa era l'ultima notizia che vi proponevo per questa rassegna stampa di oggi grazie per questo primo appuntamento con l'informazione il secondo sarà questa sera alle 20 e 30 con occhio alla notizia grazie per essere stati in nostra compagnia buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti